25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 pollici Radio Marelli, la grande televisione italiana è diventata più grande Signore e signori, Radio Marelli presenta il 33 pollici digitale stereo Grande tecnologia, grande affidabilità, grande estetica Per vedere la grande le televisioni devono essere per forza anche straniere? Oh no, Radio Marelli, scienza e fantasia italiana Adesso esageriamo San Pellegrino canciate esagerata Ogni bevuta la bruttissima esagerata Con le bambinecine, la festa è sicurata San Pellegrino canciate esagerata Gnami, 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 ah, ah, legomose più colose Gnami, legomose più colose E adesso ci sono Gnami verde e Gnami black Le gomose sperlari Stamattina tanto gusto ci sarà I frollini giù nel latte che bontà Pavesi Frollis Pavesi Frollis Pavesi Frollis La colazione più allegra che c'è Pavesi Frollis, a colazione una carica di allegria Ai frigicotteri Soldato pizza, generale Burger, nemico in pizza Nessuno fermerò il mio Bomber Grill All'attacco a Moblin Fuoco, mancato Riuscirà Bomber Grill a spiaccicare il maggiore Krapen? O il frigicottero ridurrà in polpette i disgustosi? Scoprilo con i Food Fighters Food Fighters! I guerrieri della tavola calda da Mattel I piccoli segreti attirano i curiosi Tipe, tipe, cosa c'è nei tipe? Tieni sotto chiave i tuoi tesori Diamond la cavallina e Joyful la coniglietta hanno un scrigno sicuro e lunghi capelli da spazzolare Tipe, tipe, apromavi curioso I keepers racchiudono e proteggono i tuoi segreti Avventuratevi nell'isola di fuoco per conquistare il gioiello dell'idolo crudele Che paurosi, vado io! Rubate la preziosa Gemma L'ho presa! Ma attenti, pericoli terribili vi aspettano L'isola di fuoco, un gioco tridimensionale da MB Ciao! Ciao! Papà, questo è Giulio Giulio? Prego, accomodati Eccomi qua! Da Findus i nuovi Fish and Croc Filetti di buon pesce ricoperti di... Croccanti patatine Con Fish and Croc è impossibile Non fare croc I nuovi Fish and Croc Findus Il buon pesce che fa croc Ma tu non capisci proprio niente? Sì! Ma cosa? Cosa devo capire? Ieri sera ti ho telefonato e tu non c'eri No, sono andata con... Guarda, non voglio sapere niente delle tue scuse Tu esce con quello lì di sera e me lo vieni anche a dire E trovate che ti lascia andare Perché tanto lei è la brava bambina Ma guarda che tu sei proprio fuori di testa sai Guardati, io sono andata da Filipo Solo perché lui ha uno stereo migliore del mio E volevo farmi registrare per te La cassetta che tu mi hai regalato Di ciò, la forza bella del cioccolato biscottato Lo yogurt Danone con pezzi di frutta Ha la primavera dentro È yogurt sano, buono e gustoso Perché ricco di deliziosa frutta Nutre, disintossica e... Fa bene alla pelle Yogurt Danone, la bella stagione Come che... Tenera come un volo Che il tenino è Tenera tenderli Naturalmente Mi relazza Eccomi! Oh, finalmente! Oh, saranno già tutti alla riunione Sì, e non posso più passare da casa Ma tu come fai a essere sempre così fresca? Per la mia freschezza Ho sempre con me Carefrae Salvaslip Vedi? Carefrae anatomico Flessibile Adesivo E ti dà una freschezza che puoi rinnovare in ogni momento È come avere la freschezza di uno slip appena messo allora Carefrae Salvaslip In ogni momento la freschezza di uno slip appena messo Oggi anche in versione deodorante Mmm, malizia, profumo deodorante Se nella tua femminilità c'è un pizzico di malizia Malizia, profumo di tela Se ti guardano in un certo modo Malizia, profumo di tela Se vuoi essere desiderabile in ogni momento della tua giornata Malizia, profumo di tela Malizia, il tuo profumo deodorante Oggi c'è anche il nuovo misterioso Dorià Fido è il mio migliore amico Red Play La prima penna e sfera d'inchiostro Cancellabile Red Play E oggi la novità più fresca Skip per oro Nel banco frigo il succo d'arancia rossa Mandarino Pompelmo rosa Skip per oro Tutto l'oro della frutta Quando i mulini erano bianchi Quando i mulini erano bianchi Prendi la torta di mele Prendi la piccina Ecco una merenda nuova e genuina Tortine di frutta del mulino bianco con pezzetti di mele Oppure di ciliegie E oggi anche di pesche Tortine di frutta Tre genuine bontà di morbida pasta frolla Ragazzi Facciamo un break Un break Rio mare snack Snake? Il nuovo snack spalmabile, sfizioso e gustoso Tono Tono e ketchup sgombro e salmone Siete pronti per un assaggio? Siiii! Rio mare snack lo apietà Rio mare snack lo fremietà Rio mare snack lo bustiçe Rio mare snack lo chiude classe Rio mare snack Rinazzina spray nasale, per chi è raffreddato Rinazzina spray nasale, agisce presto, è efficace Rinazzina spray nasale, libera il tuo naso, evitare l'uso prolungato Coca-Cola di più, sulla spiaggia sole sai, che un giorno di allegri avrai Ma per quello che fai, per la voglia che hai, Coca-Cola è più giusta che mai Coca-Cola di più, rinfrescarti sempre sa, da di più, sa di spettarti al massimo Coca-Cola di più, con questo gusto unico, da di più, Coca-Cola di più Questo è un buco di un qualsiasi formaggio con i buchi, questo è un autentico buco di Lerdammer Che differenza, eh? Lerdammer è più morbido, lo assaggi, mmm, è più dolce, lo riconosci subito Lerdammer, morbido e dolce, firmato su ogni fetta Acqua minerale naturale Crodolisiel Crodolisiel facilita la diuresi e favorisce le funzioni digestive Acqua minerale naturale Crodolisiel L'uso dell'acqua Crodolisiel facilita l'eliminazione delle scorie del ricambio organico In particolare dell'acido urico e degli urati A tavola, acqua minerale naturale Crodolisiel Ogni giorno, Crodolisiel Se c'è la goccia, è gin Invernizzi, gin Auto gorgonzola d'origine Eccce la goccia, è gin Invernizzi, idee fresche di campagna Dall'invernizzi, venti novità fresche fresche Mozzarille, mozzarì Chiudi gli occhi e pensa a una cosa fresca, morbida, appetitosa Invernizzi Mozzarille Le mozzarille Ehi, a cosa pensi? Una cosa bella Bellissima Se ti piace la freschezza, pensa a mozzarille Solo a mozzarille Invernizzi, idee fresche di campagna Scopri la differenza Entra in Badedas Badedas è Essenza di bagnoschiuma Essenza di oli e vitamine Essenza di raffinati profumi Scopri la differenza Entra in Badedas Nuovo In tre raffinati profumi I miei capelli con New Dimension sono così morbidi Vaporosi New Dimension Rigenera la bellezza dei capelli Se la tua arma di bellezza sono i capelli New Dimension è il tuo shampoo Tele più Trame dei film Quiz a premi Tele più Varietà e programmi tv Tele più In edicola sole 800 lire E con Tele più in regalo il romanzo di capitola puntate Salve Sono il libro delle mille storie di Fabulant Tanti personaggi vogliono uscire Per raccontarvi le loro avventure Specialmente Edoardo, l'elefante E Lionel, il leone Con tutti i suoi piccoli amici Oh ecco che arriva la scatola vuota Eh sì Per tutti è giunta l'ora del rientro Sistemiamoci bene Domani avremo altre storie da raccontare Fabulant alla Lego Mille storie da costruire Finalmente in Italia le Kevin Spets Le bambole che hanno fatto impazzire l'America Tra tutti ho scelto te Prometto di amare il mio bambolo del campo incantato Prometto di essere un genitore tenero e buono Prometto che il mio bambolo del campo incantato Avrà sempre un posto speciale nel mio cuore Prometto di essere un bambolo da amare Vuoi dare a chi ami qualcuno da amare? Tappati il naso e spruzza Spuzzi Se spruzzi Spuzzi Li ammazzi Spuzzi 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 E quando la puzza è finita Spuzzi diventa una collezione mostruosa Spuzzi è un'esclusiva Luciola 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 C Dai andiamo C'è un grande segreto da scoprire È nascosto nel castello dei Sectaus Metti alla prova il tuo coraggio Ora la battaglia è nelle tue mani Ma attento il pericolo si avvicina Io generale Spydrax conquisterò i castelli Prespingi il serpente Vipex Niente paura arriva Dardo Impugna i tuoi Sectaus Perché ora la battaglia è davvero nelle tue mani Sectaus i terribili uomini in setto Da Jig Magical Murphy Il gorilla che strilla La forza dell'uovo E la bontà della cioccolata Per nutrirlo di più E piacergli di più Che forte, che forte, che forte Boncioc La cioccolata Con l'uovo in più Che forte Boncioc Alemagna presenta Krafen contro Krafen E qui Krafen al bicocca Ecco Krafen al cacao Cucati, questa albicocca Cucati, questa albicocca Cucati, questa coccola al cacao A te tocca giudicare Scegli il Krafen che ti pare Ciao Ciao mamma Ti racconto qualcosa C'è una valle dove rendono goloso del soffice pan di spagna Con una morbida crema e tanto cioccolato Milka Quello che nasce così buono che scompare subito Pember Il più tenero degli snack E mamma sai che oggi ci sono i fantastici regali Milka Land La tazza, il morbidissimo peluche e tanti altri bellissimi regali Mamma raccogliamo i punti Milka Land Da Milka, il milla che invoglia Viennetta, con le sue irresistibili, croccanti, dolci sfoglie al cacao Viennetta, un dessert gelato così unico Che un effetto non è mai abbastanza Viennetta, un dolce successo, algida La colazione Ma papà, quelle non ti piacciono più? Sì, ma questa è più giusta Ha 5 cereali ed è morbida come il pane Con i 5 cereali Di Kinder Colazione Più Kinder Colazione Più Lievitata naturale ai 5 cereali Glenn Grant Ma sicuro Ciao, vi aspetto Glenn Grant Colore chiaro Gusto pulito Semplicemente perfetto Glenn Grant Malto da intenditore Lo prendo io il gioco Ok Hanno portato così fan tutti Il gioco per adulti Vedrete che serata Comincio Uno, due, tre Ti ho sedotto Ehi Così fan tutti Quattro, cinque Così fan tutti Eh sì Questa sera ha vinto la nostra coppia Ma il gioco può continuare Così fan tutti Nei migliori negozi di giochi Potevamo stupirvi con effetti speciali e colori ultra vivaci Del resto il balcolo lo abbiamo inventato noi Ok, basta così Ma noi siamo scienza, non fantascienza Noi siamo Telefunken La nostra filosofia È una qualità Costante Nel tempo Rispettare sempre questo principio È una vecchia abitudine di Telefunken Telefunken Qualità Costante Nel tempo E di secondo? Carne Simmental Con questo caldo Per Giorgio Non sai cosa preparavo io di secondo a mio figlio Piatti speciali Cara mia Ma anche carne Simmental è un piatto speciale È proprio il secondo che ci vuole d'estate Carne magra nella sua gelatina Ah, che bello La Simmental Ti piace? Ha quel gusto così speciale È proprio il secondo gustoso Cosa ti avevo detto? Di secondo Carne Simmental Quel gusto di speciale Incontro uno Veramente un bel tipo Mi porta a cena fuori Mi raccompagna il cane E mi tiene due ore parlando in midi zona Fuorigioco E modulo all'italiano E cosa vuoi di più della vita? Un Lucano Amaro Lucano Voglio il meglio Happy Dance Scopri il piacere L'ottimismo e la simpatia Happy Dance Sorridi di freschezza Al mondo che sorride intorno a te Oh 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 Happy Dance Scopri il piacere E la grande voglia di stare insieme E quel senso di libertà Lui non si attacca E non si attaccherà Al lavoro del tuo dentista Happy Dance La libertà di masticare La placca batterica Sulle gengive Provoca infiammazioni Sui denti calcifica Fino a diventare tartaro Prevenire è meglio che curare Menta Dent Prevenzione dentale quotidiana Attenta Forse il tuo pulito Non arriva in profondità E inoltre non c'è igiene Ci vuole Spic e Span Guarda come solo Spic e Span Supera il pulito Di tutti gli altri detersivi liquidi E ti dà la sicurezza dell'igiene Che si può perfino baciare In bagno In cucina Dà per tutto Con Spic e Span pulito Più profondo Fino all'igiene Spic e Span Un pulito così profondo Che lo puoi baciare Dai che si è già alzato Sono dieci ore che non mangia Ci vogliono i Rice Krispies Siamo Bip-pop-pop Riso soffietto Crocante di malto Bip-pop-pop Mettici zucchero e bollate Rice Krispies Rice Krispies E nutrimento da Siamo Bip-pop-pop Quel che ci vuole per vincere il tennis Bip-pop-pop Riso soffietto Che tanta energia Rice Krispies Rice Krispies Bip-pop-pop La scuola richiede ai nostri figli Un forte impegno Proprio nell'età della crescita E i ragazzi consumano così rapidamente le energie E con l'energia cala anche il rendimento Per questo è importante aiutarli E con Kinder Cioccolato è possibile Così nutriente E con più latte Che contiene principi nutritivi importanti per loro Kinder Cioccolato Con più latte e meno cacao Alimentazione specializzata per i ragazzi Kinder Ferrero E tu Vieni nel paradiso del cacao Toco Pazzoncino al cacao Toco Ricoperto al cacao Toco E buono Toco Tocco E dolce Toco Tocco E La testa del cacao Ragazzi Ci vuole Le mie nuove croccole Per grandi appetiti Viva Capitan Findus Mmm Che fame Si mangia Le mie croccole E bei filettoni di merluzzo In croccante In croccante pastel Le croccole di Capitan Findus Oro croccante Per grandi appetiti E con il grande concorso Rock and roll Mantec Uomini robot creati dal computer Acquatec Solartec Lasertec I Mantec dal cervello umano E i terribili Dome Tech Megatec E Terror Tech Il sistema PosiClick Consente un'intercambiabilità Semplice e pratica E permette di creare Più di un milione di uomini robot Tutti diversi fra loro Mantec Per un'avventura senza limiti Un gioco gig Che bomba ragazzi Un lucchetto robot Per le cose solo mie Metti un lucchetto alle tue cose Le più importanti e favolose Ho questo robot E anche lucchetto Nei tuoi segreti Ti senti protetto Lucchetti robot trasformer Magnetici o a combinazione Una guardia del corpo Sicura ed invincibile Trasformer Solo da Gig Bana 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 Super Banana Na 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 America Ma dove vai se Super Banana non ce l'hai? Na 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 Super Banana Na 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 Super Banana Super Banana Sbuccia la noia Super Banana è un'altra follia Gioca Gioca da Quando il fuoristrada non basta The Animal scatena l'animale che ha dentro Nessun ostacolo resiste a The Animal Nessun ostacolo resiste a The Animal Si attaccano le muri Ecco i potenti Grovans I guerrieri Con il potere del serpente Collezionali tutti Sono un'esclusiva Giochi preziosi BerО IlKY Milaires Miatsune Isla Miatsune Mitra Isla Grazie a tutti. Grazie a tutti.